Capitolo 84 Lo scoppio a pezzi Quando si fenderà il cielo E obbedirà al suo Signore e quel che deve fare farà Quando la terra sarà spianata Rigetterà quello che ha in seno e si svuoterà E obbedirà al suo Signore e quel che deve fare farà O uomo che aneli al tuo Signore, tu lo incontrerai Quanto a colui che riceverà il suo libro nella mano destra Gli verrà chiesto conto con indulgenza E lietamente ritornerà ai suoi Quanto a colui che riceverà il suo libro da dietro le spalle Invocherà l'annientamento E brucerà nella fiamma Si rallegrava in mezzo ai suoi E pensava che mai sarebbe ritornato ad Allah Invece sì, in verità il suo Signore lo osservava Lo giuro per il crepuscolo Per la notte e per quello che essa avvolge Per la luna quando si fa piena In vero passerete attraverso fasi successive Cos'hanno dunque, che non credono E non si prosternano quando si recita loro il Corano? I miscredenti invece tacciano di menzogna Ma Allah ben conosce quel che celano Annuncia loro un doloroso castigo Eccetto che per coloro che credono e compiono il bene Essi avranno ricompensa inesauribile